Parola di Charlie Munger, mettersi da parte i primi 100.000 euro o dollari che siano è davvero importante ed è anche una strong beep, sue parole testuali, lo le andremo a leggere insieme. Beh, li trovate qui sul mio canale. Vi andrò a condividere, è veramente un video di approfondimento, perché è così fondamentale fare di tutto per raggiungere i primi 100.000 euro all'interno ovviamente di un portafoglio sensato di investimento azionario. In questo caso specifico ragazzi vi porto l'esempio di un portafoglio da dividendo e veramente quello che uno ne potrebbe trarre se costruire in una determinata maniera, però il ragionamento può funzionare anche su altri modelli o su piani di accumulo, incentrate su ETF in accumulazione, cioè il principio rimane quello. Però ne vedremo delle belle, quindi vi invito ad arrivare fino alla fine. Io vi ringrazio anticipatamente, se lascerete un bel like e un'iscrizione al canale per sostenere tutto quanto qui il mio lavoro. Buona visione! Cominciamo andando a leggere proprio le affermazioni di Charlie Munger. Potete andarle a trovare facilmente su internet, tutti quanti i vari siti specializzati dediti alla finanza hanno riportato questo suo discorso. E quindi vediamo alcune parole, proprio il virgolettato di Charlie Munger, l'espressione che ha utilizzato. È stato anche un po' volgare ma molto efficace. Vedete qui the first, cioè i primi 100.000 is ha utilizzato una parolaccia, in italiano potremmo dirla, una sorta di unastron bippato. Ma tu devi farlo, cioè ma bisogna farlo. Quindi è una cosa semplice, dal suo punto di vista, riuscirci. Non stiamo dicendo di dover costruire chissà che cosa, anche se sono conscio che a molti di voi sembrerà un'impresa, ma tant'è devi riuscire a farlo, no? Anche se può sembrare una stupidaggine. Quindi intanto auguri. E poi dice che, vedete, non gli interessa, I don't care, dice non mi interessa cosa tu devi fare, se devi camminare dappertutto, cioè se devi pensare a tutto quanto te, se va tutto quanto su di te, e se per mangiare devi comprare praticamente il cibo tramite dei coupon, no? Ma devi trovare un modo, devi trovare una via per mettere nelle tue mani questi benedetti 100.000. Così possiamo parafrasare quello che stiamo leggendo. Ma come mai non gli interessa, e dice che dovresti addirittura fare talmente tanti sacrifici, avevi difficoltà quasi a mangiare, ma è fondamentale per ottenere una svolta nella tua vita. Tutto quanto questo lo possiamo riassumere tramite l'effetto della palla di neve. Immaginate una piccola palla di neve in cima a una montagna, quindi in caduta libera, nel suo discendere sempre più forte e violento, acquisterà velocità e soprattutto altra neve si andrà a sommare, ne catturerà, quindi aumenterà la sua massa, aumenterà il suo volume, aumenterà la sua quantità di moto, praticamente ragazzi, quella piccola palla di neve si trasformerà in una grandissima valanga. E questa è anche una metafora nella vita, a 360 gradi, quindi piccoli eventi sottovalutati, sommati gli uni agli altri e lasciati andare. Possono creare dei circoli virtuosi o dei circoli viziosi. Quindi attenzione ragazzi, nelle vostre vite andate a ragionare, non sottovalutate dei piccoli eventi, sia quando sembrano negativi, sia quando potenzialmente potrebbero essere positivi, potrebbero portarvi tanto, tanto di bello nella vita, no? E allora andiamo però ad applicarlo al nostro mondo, qui parliamo di finanza. Vi mostro un file veramente carino per quanto mi riguarda, soprattutto per chi è interessato a fare delle simulazioni, delle proiezioni sul primo portafoglio da dividendo. È un file che si trova all'interno del master delle rendite, quindi i miei studenti ce l'hanno, uno dei tanti file, e ne approfitto ovviamente per ricordarvi che il prossimo 27 settembre, quindi mancano un paio di giorni, andrò a chiudere le iscrizioni per questo 2023. Quindi l'ultimo giorno utile per iscriversi al mio percorso formativo e troverete una quantità di materiale veramente infinito per capire come generare rendite tramite l'incasso di premi con opzioni, quindi strategie, costruzioni di portafogli, analisi, condivisione delle operazioni. Cioè è veramente molto, molto vasto e poi vi è un'aggiunta a tutte le settimane di nuovo materiale formativo, video formativo, file e così via. Ragazzi, vi lascio sotto il link in descrizione. Detto ciò, ritorniamo qui al calcolatore. E allora, cosa possiamo simulare? Tutto praticamente. Noi andiamo a mettere la cifra iniziale che ci siamo messi da parte, che stiamo dedicando a un portafoglio da dividendo, e poi possiamo, vedete, mettere il contributo mensile tutti quanti i nostri target. Ad esempio, mi mancano 10 anni alla pensione, ma per pensione posso intendere il mio target, la mia libertà finanziaria. Magari qui mi do 1000 dollari o euro e voi potreste dire, ma che ci fai con 1000 euro o 1000 dollari? A parte bisogna vedere anche dove uno potrebbe vivere nel mondo. Ma detto ciò, potrebbe essere soltanto un'aggiunta a quello che è il mio reddito perché so che fra 10 anni verosimilmente andrò in pensione con 1000 e 2. Volete mettere la differenza fra 1000 e 2 più 1000 oppure no? Quindi questi 1000 mi fanno diventare la mia pensione 2002. Magari 1000 e 2 derivano dai contributi IMS che ho versato nella mia vita o che ho versato nel mio dottore di lavoro e così via. In più ci sono questi, per farvi intendere. Ma non è necessariamente la pensione. Poi ognuno ha le sue cifre, ragazzi. Qui sono numeri così, tanto per fare degli esempi. Contributo mensile ho messo 0 perché facciamo finta che abbiamo finalmente con tanta fatica raggiunto questi primi 100.000. Perché sono così importanti? Qui sono andato addirittura anche già a detrarre quelle che sono le tasse, ragazzi. Va bene? Dividend tax rate, quindi già sono tassate i dividendi. Il principio però qual è? Una volta che noi abbiamo raggiunto questi 100.000 li facciamo correre. Cioè non dobbiamo più fare niente, non dobbiamo più fare alcun sacrificio, non dobbiamo più metterci da parte niente, possiamo spendere tutte le nostre entrate e lasciamo solo correre il portafoglio con questi 100.000. reinvestendo i dividendi tassati qui al 26% facciamo pinta che siano dividendi britannici o dividendi italiani. Poi ognuno metterà le sue percentuali e la sua tassazione. Ora però, l'investitore da dividendo, cosa fa l'investitore intelligente? Qual è il nostro target? Avremo delle azioni quality dividend growth, azioni con un dividendo un po' più bassino ma che crescono tanto. ci sono tante aziende che rilasciano solo l'1, il 2% all'anno, il 2,5, il 3 però il loro dividendo magari cresce del 10-15% all'anno. Ci sono delle azioni con dividendi magari giganteschi le quali però hanno una capacità di crescere del dividendo quasi nulla. Però un portafoglio ben costruito dovrà avere al suo interno tutte società che andranno a comporre un paniere che avrà una sorta di filosofia di risultato finale simile al concetto del quality dividend growth delle aristocrats, delle kings che significa avere un paniere di azioni che riescono ad aumentare il loro dividendo ogni anno. E dobbiamo cercare di avere un tasso di crescita target. Non riusciremo a cavalcarlo al 100%. Ci saranno delle discontinuità nelle crescite perché ci sono cicli ribassisti cicli di espansione economica cicli invece che sono negativi. I classici cicli che fanno parte dell'economia la recessione qualche azienda taglierà il dividendo qualche azienda metterà un dividendo extra magari usciremo da due o tre società che non ci piacciono più altri saranno andate benissimo le venderemo tutto quanto il caidoscopio infinito che vi potete immaginare all'interno di un portafoglio. Però c'è una media c'è una media e ci sono delle linee guida da avere e noi cercheremo di stare vicino a queste linee guida e mettiamo le realistiche ad esempio un bel portafoglio da dividendo bello 5% all'anno si può benissimo costruire non stiamo parlando di fantascienza e possiamo costruirlo con il ragionamento che mediamente i dividendi di queste aziende tutti sommati cresceranno nel tempo del 4% ogni anno come incremento. Ora ragionando sul fatto che noi mediamente le avremo prese con la loro resa media quindi a volte saremo stati meno bravi a volte più bravi nel comprarli cioè a livello di valutazioni di multipli di dividendo medio quindi aziende che mediamente danno per dire un 5% e l'hanno sempre fatto mediamente negli anni passati dovrebbero farlo negli anni futuri ok? Se queste società più o meno hanno avuto una maglia di quel dividendo che è stato rispettato appunto mediamente cosa è successo se riuscirono a incrementare questo dividendo che negli anni nel lungo termine sono cresciute a livello di quotazioni infatti se voi prendete delle quality dividend growth vedete che nel lunghissimo termine magari aziende che hanno cominciato a lasciare dividendo negli anni 90 eccetera sono cresciute tanto nelle quotazioni con delle percentuali di crescita a volte molto simili in realtà alle percentuali di crescita del loro dividendo quindi quello che voglio dire io è che se facciamo un lavoro medio e teniamo queste società se abbiamo un CAGR quindi del 4% qui l'ho messo di incremento del dividendo atteso ogni anno anche le società nel lungo termine cresceranno di un CAGR del 4% all'anno in termini di quotazioni ripeto lo faranno in maniera irregolare ma la risultante sarà quella perché se è vero che mi attendo che una società mediamente dia quella percentuale di dividendo lì se ha raddoppiato il suo dividendo in 10 anni anche le sue quotazioni verosimilmente saranno più o meno raddoppiate questo è il principio e dobbiamo fare quindi una programmazione e guardate quello che succede se noi qui abbiamo 100.000 e io mi prendo magari un 5% di dividendo che succede? succede che poi mi ritrovo circa 103.000 ok? qui ci sono delle distribuzioni periodo per anno ho messo 12 ragazzi poi solitamente utilizzo il contributo annuale comunque uno può costruire anche in maniera un po' diversa però quello che voglio dire io non è che alla fine dell'anno perché lo costruisco così perché non è che alla fine dell'anno ne investo il dividendo ho tante aziende tutti i mesi mi arrivano a dividendi e li vado ad investire subito e questo è il principio cosa succede? è tassato ho 103.700 investiti però ho avuto anche un incremento del mio 4% in termini di quotazioni di capital gain come vi dicevo quindi la risultante è 107.785 il secondo anno riparto da qui e questa volta siccome mediamente il portafoglio ha avuto un incremento di dividendi grazie a tante società che hanno quella filosofia quella capacità il dividend sarà il 5.20 ma non sarà più il 5.20 poi su 100.000 ma sarà il 5.20 su 107.000 cosa succederà a fine anno che questi 107.000 grazie al reinvestimento dei dividendi saranno diventati 112 ma questi 112 in realtà saranno 116 perché il portafoglio è cresciuto ripeto sarà discontinuo ragazzi però magari per quell'anno che fa meno 20 poi c'è l'anno che fa più 40 questo è normale però è la media è una programmazione e cosa succede nel lungo termine che più è lunghissimo il termine e più vengono rispettate in realtà le medie succede che senza fare niente in maniera del tutto passiva quindi noi abbiamo finito di accumulare soldi per le nostre 100.000 ci spendiamo tutto il nostro stipendio abbiamo detto la nostra bravura è solo lasciar correre questo sistema e magari ovviamente rimanere sintonizzati con i nostri investimenti fare la nostra due diligence con il nostro lavoro i nostri compiti a casa se magari sono un quarantenne e mi sto costruendo una pensione a 65 anni più o meno sto in pensione e qui ho il mio milione ok? ho il mio milione da quarantenne a 65 anni sono passati 25 anni facciamo una roba del genere come esempio vedete qui ci sono tutti quanti le annate poi per voi potrà essere 10 anni 20 anni 5 anni 15 anni scegliete voi e cosa sarà accaduto ragazzi? che a forza di reinvestire tutto e a forza di avere dividendi che crescono io avrò un yield cioè sul mio portafoglio attuale del 12% il 12% su un milione ragazzi è più o meno è più o meno un milione e due cioè scusate vuol dire 120.000 quindi è veramente tanta roba se io prendo il 12% su un milione però se ci fate caso l'eal don costa è clamorosamente positivo ragazzi è veramente clamoroso perché se io mi vado a prendere magari 120.000 di dividendo ok e all'inizio ho investito 100.000 vuol dire che il mio yield on cost cioè il mio dividendo non sul mio attuale portafoglio sul capitale che ho in questo momento ma su quello che in origine avevo investito il mio dividendo supera il capitale stesso va bene è veramente pazzesco è veramente incredibile è fenomenale ecco qual è il fenomeno che si genera è famoso Warren Buffett ad esempio per aver avuto Coca Cola dove ha vissuto un effetto del genere poi magari non riusciremo ad arrivare al 100% sarà il 50% del lead on cost perché magari saranno cresciuti di meno oppure avremo avuto meno anni a disposizione avremo vissuto degli anni di passione sui mercati fate voi ma questo è l'effetto palla di neve effetto palla di neve che si fa interessante dai 100.000 in su perché se qui avessi 10.000 ragazzi ma che ce ne facciamo non ce ne facciamo nulla capite bene magari in una vita di investimenti 10.000 sono diventati 100.000 ma la rendita da 100.000 non è che mi permetterà di fare una vita discreta soprattutto al netto dell'inflazione fra tanti anni è invece un milione condividendo estremamente alto poi estremamente alto e allora cambia tutto il discorso voi mi potreste dire Gianluca ma non lo so ma davvero ci sono quelle aziende che riescono a far crescere i dividendi del 4% ogni anno si è pieno ragazzi nella storia è pieno è pieno io adesso ve ne presento una tutta italiana ok assicurazione generale SPA c'è un portafoglio sta lì ma proprio con questo principio ragazzi tra le altre cose e guardate la sua capacità di crescere il dividendo è stata negli ultimi 10 anni del 10.6 va bene cerchiamo magari di andare a tempi magari più presenti più prossimi ai nostri proiettiamoci per il futuro comunque un 6.9 e questa è la media che viene fuori vedete ad esempio nel 2020 1.01 per azione nel 2022 1.16 e poi va per interesse composto è tanta roba ragazzi e quindi vedete magari nel 2017 era 0.85 nel 2027 se non accade nulla di super negativo potrebbe rilasciare realisticamente un dividendo dell'1.65 è un raddoppio è un raddoppio in 10 anni ed è esattamente quello che ho cercato di dimostrarvi prima ci possiamo aspettare dei dividendi mostruosi ma se noi li investiamo poi tutti questi dividendi il capitale cresce e quindi è un effetto palla di neve devastante io adesso mi sposterò qua ragazzi etf sui sui dividendi perché come facciamo a prendere questi dividendi io nel master delle rendere li condivido a me tutti i miei studenti ovviamente non dispenso consigli finanziari non li do vedete questa è didattica questa è didattica ragazzi qui stiamo facendo veramente formazione io non vi do dei consigli finanziari io vi do una marea di informazioni molto interessanti dovete ragionare e poi approfondire ovviamente in autonomia prendere coscienza possiamo prendere etf da dividendo classici ora tranne degli esempi estremi diciamo mediamente qual è uno svantaggio rendimento a dividendo basso cioè voglio dire non ci stanno questi numeri che noi abbiamo visto il 5% il 6% come dividendo non si trovano è chiaro che bianco è una commissione di gestione se noi andiamo a comprare delle società e le danniamo lì nessuno ci crederà delle commissioni di gestione certo se siamo superattivi ci potrebbero chiedere delle commissioni per la compra vendita ma questo anche se abbiamo un accumulo su degli etf è chiaro che è molto semplice vi è tanta diversificazione e vi è un basso rischio gli etf sono indicati diciamoci la verità per la maggior parte degli investitori assolutamente sì è un enorme vantaggio titoli da dividendo individuali cioè costruirci un portafoglio con titoli da dividendo ha degli svantaggi notevoli quali ad esempio la complessità un rischio più elevato e richiede due diligence come dicono quelli bravi in oltroceano perché? perché dobbiamo fare i compiti a casa richiede dello studio però questo sacrificio a fronte di cosa questo impegno? a fronte di vantaggi notevoli ovvero un potenziale di rendimento molto molto più elevato vi faccio un esempio ragazzi anche qui non vi do dei consigli finanziari vi faccio capire però che uno può costruire magari sarà un portafoglio anche più volatile ma uno può costruirsi un paniere sensato anche qualitativo su aziende che hanno le caratteristiche che abbiamo detto prima la storia che cerchiamo che hanno detto prima e verosimilmente anche la possibilità magari di riuscirci nel prossimo futuro ottenendo però una risultante assai maggiore classico esempio ma questo si può fare su tanti comparti sul mercato in generale prendiamo un classico etf che investe nelle trassi immobiliari nei mercati sviluppati investitori possono fare questa scelta quindi siamo nel campo dei reeds le trassi immobiliari vedete qui realty income public storage vedete ci sono tantissime aziende però gli etf cioè cosa ci danno cosa ci possiamo aspettare guarda il rendimento a dividendo guarda gli ultimi anni 2.54 2.80 2.88 vediamo giusto se il 2019 è un 3.50 adesso praticamente ci stiamo arrivando perché è chiaro c'è stato un calo ma anche dopo il calo noi ci possiamo aspettare un 3.50 poi magari nel tempo potrebbero crescere qualcosina ma bisogna vedere anche di quanto guarda qua dividendo in euro ad oggi in realtà sono più bassi del 2019 quindi questa è un po' la problematica diciamo degli etf avere dividendi veramente importanti e cospigui però i vantaggi sono tantissimi ne abbiamo detto diversificazione con un click non devo stare lì a studiare non devo impazzire diversificazione magari anche meno volatilità eccetera eccetera non è detto ma andiamo a vedere ad esempio qua noi potremmo cominciare invece a selezionarci noi le trust immobiliari ad esempio Agro Realty Corporation 5.12% questa è la sua storia Realty Income 5.96% siamo volentieri al 6 o National Retail Properties 6.26 sono degli esempi ragazzi non sono dei consigli finanziari però possiamo trovare tante tante aziende che magari hanno i dividendi coperti quando le studiamo che hanno una storia di crescita del dividendo che hanno una proiezione di crescita del dividendo che lasciano il doppio e che mai hanno anche il doppio della crescita di un ETF e uno si costruisce il suo ETF il suo paniere quindi ci sono tantissimi modi di farlo e ognuno deve deve scegliersi il proprio quindi comunque voglio dimostrarvi che non si tratta solo di teoria che poi le cose in realtà sono quelle che uno racconta anche a livello teorico poi a livello pratico uno si deve rimboccare le mani e andare a eseguire il proprio lavoro bene ragazzi siamo qui giunti alla conclusione sono molto curioso di sentire la vostra vi ricordo ancora una volta mancano due giorni alla chiusura del percorso formativo pertanto se siete interessati ad approfondire questa costruzione della palla di neve di questo effetto valanga di come io mi stia dedicando veramente con anima e corpo e quindi condivido il tutto continuamente agli iscritti del master delle rendite link sotto in descrizione io comunque nel frattempo vi saluto vi do appuntamento a prestissimo e nel frattempo come sempre vi auguro il meglio nella vita e negli investimenti ciao